Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Prima di immergerci in una notizia davvero emozionante e toccante, vi invitiamo a premere il tasto iscriviti, attivare le notifiche e lasciare un mi piace, così da rimanere sempre aggiornati sulle ultime e più incredibili notizie. Iniziamo con una storia che ha riscaldato i cuori e che ha reso brillanti gli schermi televisivi in una recente puntata di Dritto e Rovescio, su Rete4, il 22 ottobre 2023. Un episodio che ha catturato l'attenzione, regalando momenti di autentica commozione e dolcezza. Tra gli ospiti illustri della trasmissione condotta da Paolo Del Debbio troviamo una figura notevole e carismatica, Mario Giordano. Nota personalità televisiva, Mario è conosciuto per il suo stile allegro e spumeggiante. Ma durante la trasmissione è emerso un lato più tenero e vulnerabile di Mario, un lato che ha toccato il cuore di molti. La sorpresa inaspettata è arrivata attraverso un messaggio dolce e commovente. Un collegamento live ha rivelato la presenza della figlia di Mario, Alice, pronta a condividere una notizia che ha fatto brillare gli occhi di suo padre con lacrime di gioia. Alice a Dritto e Rovescio ha parlato con affetto e dolcezza, svelando queste parole a suo padre. «Papapà, mi hanno chiesto di parlarti del ruolo che ti aspetta da qui a poche settimane, quello di nonno. Qui Antonio, il compagno della figlia, si è già attrezzato per far diventare la piccola Agatha una grande tifosa del Milan, ma io non vedo l'ora di ascoltare nonno Mario che recita come Ninna-Nanna la formazione del grande toro». Il messaggio della figlia di Mario Giordano mostra un piccolo body rossonero. E Mario Giordano, di solito allegro e spumeggiante, si lascia andare alla commozione. Immaginatevi l'emozione, la sorpresa nei suoi occhi, l'affetto che ha inondato il suo cuore ascoltando le parole di sua figlia. Alice, con toni affettuosi, ha rivelato che presto Mario avrebbe avuto il privilegio di accogliere e coccolare sua nipote, la piccola Agatha. Ma la storia non finisce qui, anzi, si colora di tinte rossonere e di passioni calcistiche. Antonio, il compagno di Alice, si è già preparato ad introdurre la piccola Agatha al mondo del calcio, sperando di fare di lei una grande tifosa del Milan. Questo è stato un momento ricco di emozioni, un delicato incrocio tra la vita professionale e quella personale, un momento in cui il cuore di un padre e futuro nonno ha vibrato di amore e felicità in diretta televisiva. Ora, cari amici, vi lasciamo con un invito. Cosa ne pensate di questa splendida notizia? Condividete le vostre emozioni e pensieri scrivendo un commento sotto al video. Siamo curiosi di leggere le vostre reazioni e sentimenti su questo dolce annuncio. Grazie mille per essere stati con noi. A presto!